Promuovere, stimolare e facilitare la lettura a Isernia. È la mission di RIDIS, la neocostituita associazione che sta proponendo dei punti lettura in alcune delle attività più frequentate della città, soprattutto dai giovani, come naturalmente fornendole di libri, tanti e degli argomenti più disparati. L'intento è quello di destare l'interesse anche in chi magari è poco inclina alla lettura. Una categoria di persone, questa, ahimè, in crescente e desolante aumento. E nel periodo natalizio, l'iniziativa messa in campo dagli ideatori dell'associazione, Gabriele Rossi e Stefano Potena, è approdata all'interno dell'ospedale veneziale. Nel nosocomio Pentro, da qualche giorno, inaugurato infatti il primo reparto RIDIS con la donazione di libri ai pazienti. L'intento, quello di regalare un po' di distrazione a chi è ricoverato in questo brutto periodo caratterizzato dal Covid, che costringe a star lontani dalla famiglia e dalla società, hanno sottolineato i due. Oggi apriamo al veneziale il primo reparto RIDIS. In pratica andremo a mettere il punto RIDIS con la biblioteca, una social library che è diffusa già in tutta quanta Esernia, in ospedale per dare un po' di distrazione a chi si trova qui ad affrontare sia un brutto male che un brutto periodo purtroppo legato al Covid. E quindi si sente lontano dalla famiglia, dalla società e dal resto della città. Noi lo mettiamo in comunicazione tramite la lettura. Speriamo. Allora, a RIDIS abbiamo deciso di mettere dei punti, delle piccole biblioteche in ogni locale di Sernia, ogni punto di Sernia, con la speranza, appunto, come ha detto anche il mio carissimo amico Gabriele, di dare un momento di distrazione o di anche unione a tutta la città e a tutti i ragazzi che possono, hanno l'opportunità di leggere ovunque vogliono. L'invito alla lettura di RIDIS ha abbracciato convintamente dal primario del pronto soccorso della struttura, dottor Lucio Pastore. Queste sono iniziative fondamentali. Al di là della difficoltà momentanea che abbiamo per il Covid, quindi con un isolamento marcato, in cui la lettura sicuramente può essere un momento importante per ciascun individuo, dobbiamo ricordarci che in questo momento c'è un impoverimento del linguaggio, specialmente nelle nuove generazioni, per mancanza di lettura, per una comunicazione fatta tramite i social che tende a ridurre di molto quella che è la capacità di esprimersi, di avere linguaggio. La diminuzione della capacità del linguaggio implica una diminuzione della capacità di pensiero. E' importante riprendere la lettura perché debba potersi avere una coscienza critica sempre più profonda.